Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi vedremo la vicenda di un bandito leggendario, Jesse James, che in Italia non ha raggiunto la celebrità che invece ha avuto negli Stati Uniti dove in tanti lo considerano ancora oggi un eroe nazionale. Vedremo poi perché e se questa considerazione sia in effetti legittima. Prima di raccontare la sua storia ho un grande annuncio da farvi. Lo avete chiesto in tantissimi e finalmente è arrivato il primo viaggio di Vanilla. Si va a Napoli. Dall'8 all'11 dicembre sarò in città per esplorarla con un piccolo gruppo di voi. Vedremo la celebre cappella di San Severo, i segreti della Napoli sotterranea, i presepi di Natale e un giorno intero dedicato a Pompei ed Ercolano, oltre a moltissimi altri luoghi nascosti, fra cui il cimitero delle Capuzzelle, se lo riapriranno. La sera dopo cena affronteremo tre discussioni riguardo temi specifici, i costumi sessuali degli antichi romani, i delitti celebri di Napoli e in ultimo magia, stregoneria ed eresia. L'organizzatore del viaggio è Wave Travel e per tutti i dettagli vi lascio il link qui sotto in descrizione, in modo che possiate cliccare e prenotare. Fate attenzione però, quando confermate utilizzate il codice VANILLA50, vi lascio scritto anche questo qua sotto, vi faranno uno sconto di 50 euro sul prezzo del pacchetto, che comprende guide, ingressi e musei e altri dettagli li trovate sul sito. Per chi vuole venire, mi raccomando, mi raccomando, prenda il posto subito, al massimo entro fine ottobre, perché la disponibilità è limitata e anche il numero di coupon sconto. E ora, dopo che avete fatto un giro a vedere di cosa vi parlo sul sito di Wave Travel, passiamo al video di Jesse James. È il 1863. La guerra civile imperversa sugli Stati Uniti da circa due anni, e il Missouri è vittima della guerriglia fra i confederati clandestini, i Bushwalkers, e le milizie locali affiliate all'Unione, i temibili Joe Hawkers. Da un lato i suddisti, dall'altro i nordisti, per farla semplice. In primavera questi ultimi stanno dando la caccia al bandito William Clark Quantrill, e giunge voce che potrebbe nascondersi nei paraggi di Kearney, la città natale di un membro della sua banda, un certo Frank James. È una mattina come tante, quando gli unionisti irrompono nella fattoria dei James, e fanno valere la legge marziale. Il quindicenne Jesse sta arrando i campi insieme al patrino, Samuel, sua madre Zerelda, è in casa a sbrigare le faccende domestiche. Succede tutto nel giro di pochi istanti. Alcuni soldati prendono Samuel e lo interrogano. Dov'è Quantrill? La stessa domanda la rivolgono a Zerelda. Dov'è Quantrill? Dove si nasconde? Nessuno di loro due lo sa, ma i nordisti quest'opzione non l'accettano. Zerelda ha una pistola puntata in faccia. Jesse viene prima minacciato con le baionette e poi frustato. Il dottor Samuel, invece, sperimenta una tortura peggiore. I soldati lo impiccano a un albero vicino al fienile, tagliano la corda prima che soffochi e insistono con la domanda «dov'è Quantrill?». La risposta non cambia e ripetono l'operazione altre tre volte finché il collo dell'uomo inizia a scorticarsi per l'attrito con la corda. Un'ultima volta. Dov'è Quantrill? Le proteste di Zerelda sono inutili. I Jayhawker arrestano Samuel e lo portano via. Jesse guarda la madre, le mostra le ferite sulla schiena e le fa una promessa. Si sarebbe unito ai Bushwalkers e avrebbe cercato vendetta. E così ha inizio la leggenda di Jesse James. Jesse Woodson James nasce a Kearney, nella contea di Clay, nel Missouri, il 5 settembre del 1847. Suo padre, Robert, è un pastore battista che muore nel 1850, quindi quando Jesse ha solo tre anni, durante un viaggio in California, e sua madre Zerelda si risposa altre due volte, con Benjamin Sims nel 1852 e con il dottor Royben Samuel nel 1855. Allo scopio della guerra civile, il Missouri è uno stato diviso in parti uguali fra nordisti e sudisti, un equilibrio precario che causa spargimenti di sangue fra i guerriglieri delle due fazioni. Nei primi mesi del 1863, Frank James si unisce alla banda di William Quontrell, e dopo il blitz dei nordisti alla fattoria, anche il fratello minore, Jesse, inizia la lotta armata contro di loro. Nell'inverno, a cavallo fra il 63 e il 64, i due James combattono in una squadra guidata da tale Fletch Taylor, ma il bandito perde un braccio e i due fratelli passano sotto il comando di William Anderson, anche detto Bloody Bill. Il 27 settembre del 1864, la banda di Anderson intercetta un treno che sta trasportando dei soldati dell'Unione in licenza, e con circa 120 morti, dà vita al celebre massacro di Centralia, un evento che inasprisce i toni della guerriglia. Il 26 ottobre Bloody Bill muore in un'indoscata a Albany, e i due fratelli James si separano. Frank segue Quontrell nel Kentucky, Jesse rimane nel Missouri con gli uomini di Archie Clement, un luogotennente di Anderson, e subisce una gravissima ferita al petto durante la disfatta dei Bushwalker. La guerra si conclude il 23 giugno del 1865, ma il Missouri resta uno stato diviso, e nonostante la resa delle bande clandestine e la fine ufficiale della guerra civile, i contrasti e i contenti sono all'ordine del giorno. Per alcuni mesi Jesse rimane in convalescenza nella casa di Harlem di suo zio, dove sua cugina di primo grado e futura moglie, Zerelda Mims, si prende cura di lui e lo rimette in forze. Poi, quando ha 18 anni, riunisce Frank e gli irriducibili di Clement sotto un'unica banda di fuorilegge. Il suo obiettivo è continuare la lotta armata contro gli unionisti, anche in modo illegale, e il 13 febbraio del 1866 lui e i suoi uomini effettuano con successo una rapina a una banca di Liberty. Con l'aggiunta di Cole Younger e dei suoi fratelli Jim, John e Bob, intorno al 1868 nasce la famigerata James Younger Gang, il più grande incubo di banche, negozi e diligenze del Missouri ed intorno. Il nome di Jesse sale alla ribalta il 7 dicembre del 1869, quando la gang effettua una rapina al Davis Country Savings Association di Galanty. Leggenda vuole che, in quell'occasione, Jesse uccida a sangue freddo il cassiere John Sheets, scambiandolo per Samuel Cox, l'ufficiale unionista che aveva ucciso il suo mentore, Bloody Bill, in un'imboscata. In uno stato come il Missouri, colpito duramente dagli strascichi della guerra civile, Jesse James diventa sinonimo di Robin Hood, con giornalisti e scrittori che lo innalzano a eroe romantico che ruba i ricchi per dare ai poveri. In realtà, non ci sono prove che abbia mai donato parte dei bottini a qualcuno all'infuori della sua banda, ma poco importa. L'opinione pubblica ha deciso. Jesse James è la voce del malcontento del Sud. Anche se si macchia di crimini efferati, è lui la vera vittima, e i veri criminali sono gli unionisti che lo perseguitano fin da ragazzino. Nei cosiddetti dime novel, letteralmente romanzi da dieci centesimi, Jesse James è il protagonista di grandi storie di riscatto, di avventure la cui illegalità è giustificata da un comune sentimento di vendetta. Jesse stesso capisce l'opportunità e sfrutta la sua popolarità per rivendicare la sua innocenza con dei messaggi ai lettori del Kansas City Times. Dice che è un formidabile tiratore, un grande stratega, ma non è un fuorilegge. I suoi sono discorsi politici contro la classe dirigente, contro i corrotti, contro quelli che lui identifica come i veri criminali che si freggiano di riconoscimenti impregnati di sangue del Sud. L'attenzione mediatica gli conferisce un grande ascendente popolare, e nel 1869 il governatore del Missouri, Thomas Crittenden, mette per la prima volta una taglia sulla sua testa, ma Jesse non ha alcuna intenzione di fermarsi e la James Younger Gang prosegue per la sua strada. L'azione più spettacolare ha luogo il 21 luglio del 1873, quando Jesse e i compagni fanno deragliare un treno della Rock Island Line a ovest di Adair, nell'Iowa, e mettono le mani su un bottino di circa 3.000 dollari, pari a 70-80.000 dollari odierni. Dal 1874 gli danno alla caccia anche i fratelli Pinkerton, fondatori dell'omonima agenzia investigativa di Chicago, e l'anno successivo vanno a Kearney nella speranza di trovare uno fra Jesse e Frank nascosto nella fattoria di famiglia. Catturarli è una priorità, e i Pinkerton hanno licenza di giocare sporco, anche a costo di mettere a repentaglio la vita di chi non c'entra niente. Nella notte del 25 gennaio del 1875 Alan Pinkerton ordina ai suoi uomini di dare fuoco alla casa, ma dei due banditi non c'è traccia. Nell'incendio la madre dei banditi, Zerelda, perde un braccio. Suo figlio James Archie, fratellastro di Jesse, è meno fortunato e muore per le conseguenze delle ustioni. Il 7 settembre del 1876 la James Younger Gang decide di rapinare la First National Bank di Northfield e, intorno alle 14, si divide in due gruppi. Jesse, Bill Stiles, Clint Miller, Cole e Jim Younger restano fuori per fare da palo. Frank, Charlie Pitts e Bob Younger entrano e chiedono al cassiere Joseph Lee Haywood di aprire la cassaforte. Il piano va in fumo quando il ragazzo si rifiuta di eseguire l'ordine, e all'esterno i residenti si insospettiscono e attaccano i banditi. L'epilogo è una sparatoria che porta all'uccisione o alla cattura di tutti i membri della banda, a eccezione dei fratelli James, con Jesse che assume lo pseudonimo di Mr. Howard e scappa in Tennessee con Frank. Dopo il colpo fallito seguono due anni senza rapine e assalti alle dirigenze, profilo basso e nessun guaio con la legge. Ma Jesse non vuole affatto ritirarsi e nel 1879 torna alla vita di sempre con nuovi compagni che, però, non spiccano per lealtà e coraggio. I suoi vecchi soci sono stati tutti ex bushwalkers, quindi suddisti come lui, uomini temprati dalle atrocità dei jayhawker, i nordisti, e in cerca di riscatto. In tutti i casi gestisce una banda con cui è difficile vissare i successi della defunta James Younger Gang. Dopo alcune scorribande nel Tennessee, Krittenen inasprisce la caccia all'uomo con una taglia di ben 10.000 dollari, ma i tempi sono cambiati, e Jesse non è più il grande fuorilegge dei tempi d'oro. È irrequieto, guardingo, sempre sul chi vive. Tranne che per suo fratello Frank e i due nuovi membri della banda, Charles e Bob Ford, sembra non fidarsi più di nessuno, come se chiunque potesse venderlo alle autorità da un momento all'altro. Nel 1881 si trasferisce con la moglie e i tre figli a St. Joseph nel Missouri. I due Ford lo seguono e vanno a vivere con lui. Frank, invece, si stabilisce in Virginia e rinuncia al crimine. Jesse può contare solo su Charles e Bob, ma non sa che, nel frattempo, Krittenen li ha convinti a tradirlo. Si tratta solo di trovare il momento giusto, e i fratelli Ford pazientano un giorno, due, tre. I giorni diventano settimane, le settimane diventano mesi, ma non si presenta nessuna occasione propizia, e la fase di stallo si protrae fino alla mattina del 3 aprile del 1882. Jesse si sveglia di buon'ora e fa colazione con i Ford. È pensieroso, come al solito, e mentre in soggiorno a leggere il giornale, vede una finestra aperta. Tutti lo conoscono, che è Mr. Howard, non certo come Jesse James. E non può rischiare che un passante lo veda girarsi armato per casa. Sarebbe troppo sospetto. Si slaccia il cinturone con i due revolver e li adagia sul divano, poi fissa un quadro sulla parete. È storto. Allora prende una sedia e ci sale sopra per raddrizzarlo. I fratelli Ford si scambiano uno sguardo d'intesa, estraggono le pistole e prendono la mira. Jesse è di spalle, è disarmato. Adesso o mai più. Charles non ha il coraggio, suo fratello sì. Colui che passerà la storia come il codardo Robert Ford, preme il grilletto e, con una pallottola in testa, uccide il 34enne Jesse James. La notizia dell'omicidio si sparge in poco tempo e le autorità arrestano gli assassini che, in un sol giorno, sono dichiarati colpevoli, condannati all'impiccagione e graziati dal governatore Kittenden come parte dell'accordo che avevano stretto per uccidere il bandito Jesse James. Ma il risultato non è quello sperato. La morte di Jesse non mette fine al suo mito, anzi ne ingigantisce la leggenda e dà vita alla celebre canzone popolare La Ballata di Jesse James, oltre che a una nuova ondata di romanzi e articoli in suo onore. I fratelli Ford si credono degli eroi e girano gli Stati Uniti mettendo in scena la rievocazione dell'omicidio. Il pubblico, però, non gradisce e l'unico encomio che si guadagnano è il nome di Giuda Traditori. Charles si ammala di tubercolosi, diventa dipendente dalla morfina e si suicida il 6 maggio del 1884. Bob sfrutta i soldi della taglia, apre un saloon a Creed in Colorado e cerca di ricominciare. Ma l'8 giugno del 1892 il 42enne Edward O'Killy entra nel suo locale con un fucile a canne mozze e lo saluta mentre di spalle. Ciao, Bob! Robert si gira ed Edward lo uccide con un colpo alla gola. Il tribunale lo dichiara colpevole di omicidio e lo condanna all'ergastol, ma l'aver vendicato la morte di Jesse James gli vale una petizione di 7000 firme e convince i giudici a rimetterlo in libertà nel 1902, dopo circa dieci anni di carcere. Il codardo Robert Ford riposa in un cimitero di Richmond. Sulla sua lapide è scritto «L'uomo che ha sparato a Jesse James». Su quella del leggendario bandito del Missouri, invece, sua madre Zerelda ha fatto incidere questo epitaffio. «Innamorevole memoria del mio amato figlio, assassinato da un traditore e vile, il cui nome non è degno di apparire qui». Grazie per la visione! A presto! Alla prossima! Ciao!